Papa Francesco ha incontrato venerdì pomeriggio nella cappella di casa Santa Marta 20 bambini, la maggior parte tra i 7 e i 14 anni, ma anche alcuni di 2 o 3 anni. Bambini gravemente ammalati, accompagnati dai loro genitori e da alcuni volontari e responsabili dei nulli talsi. Una bimba, Mascia, ha ricordato il precedente incontro del Papa con i bimbi malati, avvenuto il 31 maggio del 2013 nello stesso luogo. La bimba ha ricordato tutti coloro che erano allora presenti, anche alcuni bimbi che erano solo in cielo. E' assicurato che tutti hanno pregato molto per il Papa, come lui aveva chiesto. Nel suo discorso il Papa ha ricordato che la sofferenza dei bambini è un mistero, come quello della croce. Anche Maria non ha risposte davanti al corpo morto di suo figlio, ma lo abbraccia, lo accarezza. Non aviate paura di chiedere a Dio perché, sfidarlo perché, sempre che siate con il cuore aperto a ricevere il suo sguardo di padre. Lui, l'unica spiegazione che potrà darti sarà anche il mio figlio. Ha sofferto. Ma quella è la spiegazione. La cosa più importante è il suo sguardo. E la vostra forza è lì. Il suo sguardo amoroso del padre. In un mondo nel quale quello che non va bene si scarta, ha concluso Papa Francesco, voi portate il vostro dolore con eroicità. Voi siete dei piccoli eroi della vita. E il Signore sa consolare questo dolore in modo speciale. Chi sia Lui a dare la consolazione giusta ad ognuno di voi, quella di cui avete bisogno. L'incontro in cappella è terminato con la recita di un Ave Maria e con la benedizione, ma poi il Papa si è ancora trattenuto con ogni bimbo e i genitori. Grazie a tutti.